oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino buongiorno a tutti gli appassionanti spettatori di teatro sette sono sempre aspetta ho capito male volevo dire teatro otto scusate mi è scappato quella parola comunque sono sempre io davide ponza direttamente dalla valle da ost per questo argomento vi parlerò uno dei manga che adoro e che forse troverai posto nei manga shonen cioè i manga quelli famosi il suo nome è gaccia kutta ma cos'è esattamente gaccia kutta ma di cosa parla esattamente ve lo racconto subito in una baracopoli dove vivono discendenti di criminali un ragazzo orfano di nome rudo vive con il suo genitore addottivo l'ecto e si guadagna da vivere utilizzando le sue straordinarie capacità fisiche un giorno il giovane viene falsamente accusato di un omicida e condannato a una punizione tremenda tanto da essere debuto da tutti ovvero essere gettati nell'abisso fatiscente in poche parole questo manga ha a che fare con la sportizia ma anche con i con dei personaggi dai poteri credibili ve lo consiglio per coloro a cui non piace leggere i soliti vabbè ecco questo è tutto e ci sentiamo alla prossima buongiorno io sono simone armiento e io sono alberto caniglia oggi doppieremo una scena la scena 3 del film intitolato spiderman 3 la scena numero 3 iniziamo ah buongiorno che bella giornata eh com'è che hai detto che non avrei mai fatto quella foto eccola l'eroe ecco l'eroe non credevo che l'avrebbe fatto visto errore hai dato un giudizio inventato devi vedere la realtà è bufo che tu dica così perché ho riguardato delle foto delle vecchie foto e questa è molto somigliante ok beh devo tornare al lavoro sei una carogna brock come scusa la tua foto è falsa parker tu sei davvero un boy scout dai cerca di capirmi vuoi perdono? prova in chiesa la mole antonelliana inaugurata il 10 aprile del 1889 è la più alta costruzione in muratura al mondo entrò in diretta competizione con la torre Eiffel di Parigi inaugurata appena 10 giorni prima che sarebbe il 31 marzo e che sarebbe stata la costruzione in generale più alta del mondo fino al 1930 poi a partire dal 1931 e nel corso degli anni successivi fu necessario predisporre possenti rinforzi in calcio e struzzo armato a tutto l'edificio sul progetto di ingegneri Pozzo Ghiberti e Albenga per sorreggere in sicurezza tutta la volta la nuova struttura coprì per buona parte l'originale muro in mattoni e le varie decorazioni una volta è trasferito il museo del risorgimento all'attuale Palazzo Carignano nel 1938 anche perché noi siamo anche padroni di Palazzo Carignano la molla antonelliana fu usata solo come sede di mostre contemporanee durante la seconda guerra mondiale l'edificio scampò miracolosamente a danni dei bombardamenti specialmente quelli del 6 dicembre 1942 che colpirono molti obiettivi militari nella vicina Via Verdi e distrussero l'antistante teatro di Torino allora la sede dell'auditorium del EAR l'attuale Auditorium RAI il 23 maggio del 1953 alle 19.25 un violentissimo alto nifragio ovvero similmente una tromba d'aria fece spezzare e precipitare ben 47 metri della guia nel piccolo giardino sottostante della sede RAI una guia sfiorando la finestra in una stanza dell'ultimo piano dell'edificio dove in quel momento si trovava il conduttore Piero Angela distrusse in parte il balcone dell'ufficio l'annunciatrice vera Larsimon ma non provocò Daniel Persone la mole con la guia spezzata è visibile ai termini dei titoli di testa del film Le Amiche di Michelangelo Antonini del 1955 il titolo costruzione in muratura più alto d'Europa passò pertanto al campanile della cattedrale di Urma in Germania 161,53 metri mentre al Philadelphia City Hall passò il titolo di edificio in muratura più alto del mondo 162,85 metri ciò fu dovuto anche al fatto della guia non sarebbe più stata ricostruita in muratura ma in cemento armato la nuova stella ovvero quella attuale fu piccola sorretta da un'asta metallica di circa un metro la nuova stella fu rinforzata rispetto alla prima costruita da una lega metallica di acciaio alluminio fu aggiunto anche un piccolo impianto elettrico antifumine pochi anni dopo terminata la guia alla fine del 1960 per l'inaugurazione si attese il giorno 31 gennaio 1961 in comintanza di una serie di cerimonie per i centennari dell'unità d'Italia il nuovo progetto di illuminazione ottuna fu realizzato da ingegnere Guido Chiarelli compreso il posizionamento ancora esistente di due fanalini rossi per lato in cima posizionati appena sotto la stella nel 1964 fu anche progettato e costruito il primo ascensore per i turisti per giungere fino al tempietto dal quale si gode tutta la vista panoramica su quattro punti cardinali che sappiamo sono nord, sud, ovest e est per motivi di sicurezza fu chiuso l'accesso alle strette scale a zigzag per salire dentro la guia e qualche decennio dopo furono altresì installate delle barre di protezione al balcone del tempietto per prevenire incidenti o minacce di suicidio da parte di mitomani durante i successivi lavori di consolidamento fu decesso di stabilizzarne all'interno con enormi archi di cemento che però snaturavano complessivamente l'interno dando uno sgradevole senso di claustrofobia nel 1995 in occasione del centenario della nascita del cinema gli allestimenti venivano trasferiti dentro la mola antonelliana nel 1999 invece veniva inaugurato il vero e proprio ascensore panoramico preso dalla ditta GTT che sappiamo che è Gruppo Torinese Trasporti dove lì si può addirittura salire fino al 26esimo piano come vi avevo accennato prima dove si può ammirare una bella vista di 360 gradi un anno dopo nel 2000 veniva restaurata la sala cupola con la statua seduta con le catene ai polsi nel 2011 poi in occasione del centocinquantenario dell'unità d'Italia fu posto un tricolore italiano che sappiamo che è verde, bianco e rosso per noi illuminato costituito da tre quadrati verde, bianco e rosso asimmetrici tutto intorno immediatamente sopra il trempietto progettato da Italo Lupi Ico Migliore e Mara Servetto il tricolore fu acceso simbolicamente dal presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano da Roma per l'apertura ufficiale delle celebrazioni e poi fu rimosso nel 2013 negli anni più recenti la mole antonelliana a seconda di qualche evento iniziativa o ricorrenza veniva illuminata con delle fasti o luci proiettate a colori differenti per esempio il 2 aprile di ogni anno a partire dal 2015 la sera la mole antonelliana veniva illuminata di blu per ricordare la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo il 4 maggio invece di ogni anno a partire dal 2016 la mole antonelliana veniva illuminata ogni sera di colore rosso granata per ricordare quel tragico incidente dell'aereo della Basilica di Superga del grande Torino del 1949 infine nel 2020 a seguito della pandemia covid-19 che colpì l'Italia e ci ha blindati nelle case mannaggia beh la mole antonelliana veniva illuminata con il tricolore italiano che sappiamo che è verde bianco e rosso con sottoscritto andrà tutto bene durante il periodo di lockdown dal 31 marzo al 4 maggio del 2020 ci vediamo presto Francesco Faiella ciao io sono Davide Antonino Laila io sono Riccardo Sara io sono Dario io Luca Francesco Alberto auguriamo buon anno e 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 buon anno grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro Otto per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata ciao ciao ciao